Ogni fascia d'età ha aspettative e difficoltà diverse, per questo occorre studiare strategie di reinserimento lavorativo mirate. E' quanto emerge da un'analisi di CGL Belluno sulla platea di disoccupati in provincia. Dall'analisi dello stock dei disoccupati fatti al 31 di marzo di quest'anno, quindi i più recenti possibili, insomma, ci sono tre divisioni tra i giovani, gli adulti e i senior, cioè i senior sono quelli che hanno più di 55 anni, in cui fa vedere che complessivamente, a seconda che si cresce dell'età dell'anzianità di vita, insomma, c'è sempre una maggiore difficoltà a ricollocarsi. I giovani si ricollocano dopo 5-6 mesi, gli adulti all'intorno dell'anno, l'anno e mezzo, addirittura quelli con più di 55 anni sforano abbondantemente i due anni per trovare una chance lavorativa. Ora, noi vogliamo ricondurre tutta questa dinamica all'interno della discussione con il sistema dell'impresa e con il sistema anche istituzionale bellunese, insomma, vedi ovviamente il tavolo di politica attiva che abbiamo aperto per poter trovare una soluzione, sapendo che per il momento il mercato dell'industria, in particolare dell'industria bellunese, è un mercato abbastanza dinamico, non c'è una fase di disoccupazione molto forte e non si riesce a capire come appunto le aziende che sono a ricerca di lavoratori oggi lasciano in qualche maniera questi lavoratori a decantare, se mi permettete questo termine, troppo a lungo dentro le liste dei disoccupati. Una via da perseguire potrebbe essere quella della formazione? Sicuramente è una delle strade, anzi forse la principale giustamente, c'è quella appunto di incrociare a mio giudizio quali sono le effettive necessità delle imprese, su questo a mio giudizio si tace un po' troppo, e di verificare quali sono appunto i percorsi di formazione, di far accrescere le competenze dei lavoratori che siano giovani o che siano meno giovani, per poter effettivamente incrociare le necessità delle aziende e di favorire una veloce ricollocazione di questi ultimi, dei lavoratori.